Tanto quello che sarà da dire è stato detto, ripetiamo, secondo me non c'è una reale correlazione tra la riapertura dei barchi e il commercio, per cui bisognerà, ovviamente ci lavoreremo allacremente per fare in modo che il centro storico possa trovare un aiuto economico, ma le valutazioni che ha fatto il consigliere Pelonzi non ci risultano che ci sia questo ulteriore cambiamento rispetto al passato. Per cui ribadiamo che è un no, però è un no, ma per noi il tema del centro storico è un tema molto importante, per cui lavoreremo allacremente per cercare di dare delle soluzioni a questa problematica. Grazie.